Settantatresima edizione del festival della canzone italiana, siamo arrivati alla penultima puntata che ci sarà stasera alle nostre spalle, Lariss, ci troviamo in corso Matteotti. Beh, che dire, questa sera la co-conduttrice femminile sarà l'attrice Chiara Francini che accompagnerà Amadeus e Gianni Morandi durante la conduzione appunto di questa serata. La serata è le cover, andranno in scena tutte le cover anni 60, 70, 80 e 90 e per voi stamattina abbiamo intervistato diversi artisti in gara in questa Kermes Canora di cui ci parlerà il nostro Salvo Galvagno. Sì, intanto dicevo bene Tina Cancellieri, diciamo come al solito ha reso conto per il telegiornale, oggi giornata variegata, abbiamo avuto veramente un sacco di ospiti dai Santa Rosa a Striscia della Notizia, a tanti personaggi, le Iene, i tiktoker famosi e ovviamente non poteva mancare il contributo con Jessica Telisano vicino accanto all'Ariston da dove è passata Giorgia, sono passati tanti artisti e quindi noi non possiamo che vedere i contributi che arrivano grazie anche ai nostri cameraman, grazie ai nostri tecnici per il telegiornale. Facciamo un sunto, sono accadute tante cose, ve lo spieghiamo in questo servizio della giornata per questa serata speciale delle cover. Ci sarà Ramazzotti, Emma e tanti altri ovviamente. 28 canzoni in gara questa sera con il contributo ovviamente delle cover, Eros Ramazzotti ritorna al festival insieme a tanti altri personaggi famosi, Paolo Pallesi e tanti altri ancora. Il contributo filmato per il riassunto di oggi, abbiamo avuto un sacco di ospiti ai nostri microfoni. Come sta andando questo? Staremo dal vivo, dall'altro lato? Beh sta andando benissimo, ho scoperto Sanremo una macchina incredibile con tanta gente che lavora e sicuramente questo è uno di quegli anni che rimarranno nella storia, forse almeno fino all'anno prossimo se non si supererà ancora Amadeus voglio dire. Senti Jody, tu li vedi da vicino, Amadeus, Gianni Morandi, i giovani e i meno giovani, questo è un Sanremo che sta facendo parlare di sé per tante cose. Ieri sera finalmente hanno votato le persone da casa, un po' la classifica si è stravolta. Ma Mengoni, come la vedi? Vincerà questa edizione secondo te? Diciamo che è il favorito, però so che le sorprese arriveranno probabilmente all'ultimo minuto dell'ultima puntata. Ti chiedo qual è la tua canzone preferita perché ovviamente sei uno che sta lavorando al festival, però ti sei fatto un'idea dei giovani che potrebbe arrivare lì nei primi cinque? Secondo me Lazza e Tananai possono darci veramente belle soddisfazioni. Come state? Bene, grazie. Complimenti, ce la facciamo, dai, 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 dai. Come va? Tutto bene. In bocca al lupo, ciao, ciao. Un saluto alla vicina. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Un salutone e un bacione da LDA. Lei invece che fa? Canticchio. Canticchio, vuole cantare? Ma qualche così, ma così. Va bene, mi faccia sta canzone, ecco, mi faccia sta canzone. Oh, Gabbiano, hai perduto la compagna. Lei mi fa Gianni Celeste. No, no, io sono Franco Gioia. Franco Gioia, va bene, va bene. Angelo de Santa Rosa. Eh, Angelo, allora, mi ricordo questa canzone bellissima. Ti ricordo suvenire, ma ce credo. Vedio, na-na-na-na-na, i tuoi quindici anni vestivo d'amore, i tuoi quindici anni vestivo d'amore. Le ingenue paure cadevano in te mentre un disco suonava la nostra canzone Sapore di mare, sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra Quando esci da là voglio fare le tue carete, se io t'amo più della mia vita Sei il numero uno intanto, Gianni ma scusa, ma per quale motivo? Non faccio il portiere numero uno, ma dimmi una cosa, ma tu perché pensi che il portiere debba scopare No, ma 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 dai Ciao 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 Ciao